Salve a tutti ragazzi e bentornati qui con Football Manager, mi scuso per tutta questa attesa ma lavoro nuovo, cazzate perché raga l'ho fatta, l'ho fatta purtroppo la partita con la regina, tra l'altro è stata pure bellissima, ho vinto all'ultimo, io per sbaglio raga dovevo cancellare un video, l'ho cancellato sto video, volpato sul rigore al 92esimo, non potete capire come sono impazzito, ho fatto il video ma per sbaglio l'ho cancellato, quindi non bannavo di rifarla, potevo pure rifare però cazzo è stata bellissima, vince il 92esimo, tosta, tosta, abbiamo fatto di tutto per vincerla, un po' meglio noi, imprecisi come al solito c'è dire, se è 4 antenocci, se è 5 c'è dire, non segnano più, però l'abbiamo portata a casa, quindi mi dispiace per non averla fatta vedere, mi dispiace per un po' di tempo perso, con lavoro eccetera, ma siamo qui e oggi in trasferta col Venezia, Venezia gioca così, quindi me sa proprio che andiamo sulle fasce, allora ragazzi, volpato sta in forma, mi ha segnato e quindi volpato, io lo metterò qui al posto di Sole, e al posto di Sole, ritorna Baldanzi, Zanoni Teranova Piano, io invece direi che ritorna Vicari, Puccino al posto di Mazzotta, Salsedo potrebbe ritornare, almeno in panchina, proviamo a dare quello, anche se non mi fa impazzire, avversari, a qui Sanz, che dite, lo marchiamo stretto a qui Sanz, mi sa proprio di sì, capo coloniere, quindi a questi i contrasti duri così sbroccano, spero che non fanno rigori però eh, ok ci siamo, ragazzi, veniamo da sette risultati utili consecutivi, siamo in formissima, e tra l'altro l'ultima partita che, ripeto, mi dispiace un botto, perché mi ero fomentato troppo con il gol all'ultimo di Volpato, l'ultima partita purtroppo non l'abbiamo vista, ma abbiamo vinto, e quindi vorrei due vittorie di fila che non so se l'ho mai fatte, due di fila proprio, però vabbè, speriamo che qua ci riusciamo a un Volpato, è stato anticipato, aspetta, che cazzo, attenzione, è bianca, oh Maita, Puccino, dentro per c'è Dira, c'è Dira, dentro, no, 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 ma com'è possibile che noi ci mangiamo questi gol, ma chi si è mangiato, Antenucci e Volpato, chi è che ha cagato il cazzo, tutte e due insieme ci sono andati, però che Bari, raga, c'è Dira, subito, dentro per Antenucci, mi pare che non si capiscono, non si capiscono i due Volpato, recupera però, Volpato, dentro, ancora c'è Dira, indemoniato, Gioronen, che cazzo, raga, già vicino al gol come al solito, ma non riusciamo a farlo, vabbè, sono comunque contento per come stava, come abbiamo iniziato, non sta succedendo niente, Antenucci gioco un 6 e 5, oh mio Dio, guarda, Antenucci che cazzo gli sta piano, lo so, Puccino, c'è Dira, matta, Puccino, ancora per Cedira, no per Baldanzi, 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 ci ha provato, tiro debole però, fammi l'uomo d'aria, va che non segni più, porco, due, speriamo bene che se fai spalle le somma, mi rodo il culo, Puccino, eh ma è la terza volta che lo facciamo, Cedira, recupera dentro, Baldanzi, stop, tiro al volo, deviato, non ci credo, c'è Pitelli, calcio d'angolo, il Bari ci sta provando in tutti i modi, in tutti i modi, cazzo, vai vicari, ti ho messo pure perché sei forte di testa, ancora c'è Pitelli, ma che prestazione sta fa la difensiva, Baldanzi, dall'altra parte, niente, ancora per il nostro, Baldanzi, se lo allunga come un pollo, 6-5 per lui, ma da credo, muo segnano Candela, Candela, Vincent, oh lele, oh la la, vince Candela, vince Candela, Pazzano, 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 siamo entri dentro, Pazzano, no, ci ha provato quel coglione, però che tiro, niente, non si riesce a segnare, non so che fa, gli stiamo a romper culo, prima o poi arriva, dite, dentro, devo far qualcosa sui calci d'angolo perché non è possibile, guarda Baldanzi che palla che ha perso, guarda Baldanzi che palla che ha perso, di cari, ma chi è somma, occhio, zanò, porca puttana, primo tiro, per fortuna debole, e c'è Caprile, vai Volpapia, occhio senza fallo, mo' io dico qualcosina, ad Anteluce e Baldanzi mo' me l'inculo, niente, finito il primo tempo così, che palle, che palle, quando fammo mille occasioni non segniamo, miro del culo, guarda qua, SpectreDoll 1.5, dove sta Antenucci? no no, singoli, singoli, Antenucci e Baldanzi, mi manda in bestia, mi manda in bestia la vostra prestazione, mi manda in bestia, che cazzo, di solito è la prima volta che parlo con i singoli, perché c'è, non è possibile, Antenucci è da, è da una vita, se merita, se merita, se merita, devi fare una partita dalla panchina, perché sennò, giusto, sei e tre, attenzione, attenzione Baldanzi, stavo a fare la sostituzione, Baldanzi, barriera, è paragiorno, guarda, gli lascio, al 55esimo, faccio i cambi, vediamo se sali di un punticino qualcosa, no, bravo, c'è di, occhio, 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 come carcipo insieme, ah, fuori gioco, ok, Dembasek, te prego, pure tu, hai fatto tipo un gol all'inizio, 7-2 c'è di, ragazzi, solo lui sta giocare in attacco, solo lui, è volpato pure, stava a far benino, ah, ma ora faccio una cosa, guarda, c'è di, c'è di, c'è di cambio campo, per Zanoli, ma è un fenomeno, dai, volpato, eccolo, volpato, dentro, c'è di, no, guarda che parata che ha fatto Giorno, io non ci posso credere, non c'è di luci, entra Sec, neanche ci fanno vedere l'angolo, vaffanculo, doppio cambio, entra, maiello, al posto di Somm, che è già munito, e poi ragazzi, tolgo anche Baldanzi, e metto Volpato qui, e c'è il ritorno di Salsedo, che è motivatissimo, ritorna, dall'infortunio, dai, attenzione, maita, punizione, arriva lui, fresco, gira la palla, Shonen, che cazzo di parola ha fatto, maita, che batte lui finalmente, dentro Sec, quasi, cazzo di rigore su Sec, appena entrato da fastidio, taglia il giallo a Binevski, attenzione, Var, confermato, chi lo tira adesso, chi lo tira, lo tira Salsedo, appena entrato, i cambi fondamentali, fondamentali, e io subito chiedo concentrazione, andiamo, Salsedo non sbaglia, incredibili i cambi, un'altra volta, è sempre più mia questa squadra, Sec, e Salsedo appena entrati, Sec prende rigore, e Salsedo lo realizza, testa regà, testa, concentrati eh, anzi, cerchiamo di fare il 2, cucino, Bianca, Bianca, Zanoli, lancia di nuovo Salsedo, che è scatenato, Salsedo non vedeva l'ora di ritornare, eccolo, Salsedo dentro, Volpato, come spacca la partita, Salsedo, come spacca la partita, e Volpato, seconda rete di fila, Zanoli è morto, quindi siccome siamo solo da zero, ritmo normale, perdita di tempo, a volte, anzi, perdita di tempo, spesso, pressing, più spesso, Zanoli Volpato, Azzano è stanco, è stanco, è stanco, è stanco, me lo togliamo, me lo togliamo, ferma tutto, Maiello, anche lui è entrato, e come è entrato, allora, posso adizionare, veramente, Zuzek, e poi, e poi, facciamo riposare, mettiamo su le, apposta di cedira, invertiamo l'oro, confermo, cambi finiti, 10 minuti, più recupero, forza regà, 2 a 0 fuori casa, e andiamo a prendere i primi, la spalla, la andiamo quasi ad agguantare, addio, lancio, cedira ancora, energie, tutto, Zanzedo, Zanzedo, è incredibile, è incredibile, è tornato in campo, e ha fatto un impatto immediato, che c'era scritto, ha fatto un impatto immediato, ma che cazzo, procedi, si procedi, ragazzi, Zanzedo, due gol e un atti, il secondo è entrato, pazzesco, mai visto un giocatore, entrare così, e cambiare la partita, totalmente, che voglia questo ragazzo, di ritornare dopo l'infortunio, e che partita, raga, 3 a 0 fuori casa, vittoria netta, 10 di rimporta, porco 2, ci ha servito sempre un rigore, però all'inizio, per sbloccarla, mamma mia, Salcedo, cedira pure Assis, gran partita anche la sua, e anche Volpato, Follorush è stato a casa, sta partita, eh ragazzi, abbiamo tanti uomini, stiamo cercando di farli integrare tutti, per ora ci stiamo riuscendo, dai, dai, che è finita, mamma mia, maiello, attenzione, ancora è finita, anche lui, anche lui è entrato e segna, incredibile, pocherissimo, guarda Salcedo, un altro assist, peccato che non glielo danno, perché qua l'ha toccato il portiere, raga, Salcedo a destra, a sinistra, è qua, qua vuole rubare il posto, raga, qui vuole rubare il posto, Salcedo, fondamentale, cavolo, ed è finita, 0 a 4, che prestazione, raga, molto, molto bene oggi, vittoria eccellente, vittoria eccellente, raga, vittoria eccellente, cazzo, e andiamo lì, a 24 punti, a meno uno dalla spalla, e a meno quattro dalla prima, e va bene così, differenziali di siamo la meglio della serie A, un botto 16, veramente un botto, ma stiamo facendo del gran calcio, quindi, vittoria schiacciante, Gamberini, niente panico dopo la delusione in casa, con fresa in stampa, Salcedo, Dio Salcedo, ti elogio, se è stato superlativo, se è stato superlativo, 8 partite di fila senza perdere, e seconda vittoria di fila in serie B, che non l'avamo mai fatta, no, si l'avamo fatta, l'avamo fatta, non siamo arrivati a 3, e ora ci proveremo col sud di Tirol, ad arrivare a 3, proveremo col sud di Tirol, che vedremo sempre qui sul canale di Bafone TV, ma alla prossima puntata, bella e grazie.